Io mi chiamo Giorgio Goschi di Audiogamma e siamo qui presenti con una serie di brand dei 42 che noi distribuiamo in Italia, in particolare in questo stand stiamo dimostrando e presentando al pubblico il nuovo produttore Cumi della Vivitech con due modelli Cumi 2 e Cumi 5 che si differenziano tra di loro per la luminosità, quindi abbiamo un modello a 300 ansi lume e un modello a 500 ansi lume la peculiarità di questo produttore è che dà la possibilità di essere utilizzato in diversissime applicazioni che possono andare dalla presentazione, ai videogiochi, all'home theater e a qualsiasi altra cosa che possa essere dimostrazione di foto, video oppure anche musica, quindi con concerti eccetera la cosa interessante di questo prodotto è che ha una memoria interna quindi può anche lavorare benissimo senza aver collegato un Blu-ray o un PC, quindi posso direttamente scaricando le mie informazioni nella SD card o nella memoria del proiettore posso far visualizzare i miei filmati o le mie foto o anche file PDF di Office in generale, quindi anche la presentazione di PowerPoint possono essere mandate direttamente sullo schermo senza l'utilizzo di un PC o di altre altre put necessarie. Ci sono diversi colori come vediamo, altra cosa interessante è che attraverso una dangle wifi si può accedere direttamente alla rete a utilizzare direttamente il produttore senza necessità di avere un PC. Lo che stiamo proponendo è il mercato ovviamente dell'home theater, quindi da home, però uno dei mercati che stiamo sviluppando è il mercato delle presentazioni, quindi essendo molto piccolo, molto leggero e avendo questa tecnologia a led, quindi non avendo più nessuna parte meccanica in movimento, non avendo più il problema della lampada diventa un prodotto perfetto per chi non so, per chi fa il venditore deve andare a fare delle presentazioni in giro per l'Italia o in giro per il mondo.